In cui si dice che si va ancora in esercizio supervisore per 60 giorni, vado proprio a memoria quando ho avuto questo l'anno fa, non sono entrata in museo un anno, tre anni fa, magari è cambiato, però secondo me se lui parlava di 39 e 160 giorni, si può essere tutto perché poi già a settembre non c'è la tasi, quando è adesso invece la tasi, la scadenza? Tra l'altro al 30 settembre devi fare l'altro addendimento di bilancio che è la verifica degli equilibri che si fa ogni anno, per cui probabilmente andranno insieme il bilancio previsionale e la verifica degli equilibri, le scadenze sono bilancio previsionale teoricamente 312 più deroghe, assestamento di bilancio entro il 30 di novembre, entro il 30 di settembre verifica degli equilibri, entro il 30 giugno dell'anno successivo chiusura, quindi magari molti di voi dovrebbero approvare questo ultimo lato, e poi le variazioni di bilancio si possono fare tanto l'anno, ve lo verifico per questa cosa di 60 giorni, a memoria, non so perché l'ho letto da qualche parte, che c'è questa possibilità di passare tra giornate libera per avere un esercizio propositivo di 60 giorni in più, però da verificare, se non l'anno proprio a memoria. Allora, se c'è un'altra domanda, devi richiedere con la serata, è stata un'interessante, credo sia per tutti, è stata un'interessante, sicuramente ci rivedremo perché faremo altri incontri anche legati alla cittadina comunitaria, ci saranno avanzate in città di nuovo, parcavo il corpo, quindi in questo è soltanto una delle tante serate che può fare, magari anche con gente, con il voglionamento, eccetera, grazie Paolo, è stata una sorpresa, grazie. Grazie a Chiara che è avuto da mia supportanza. Grazie.